e un benvenuti e un bentrovati a tutti gli amici di tele a reggio e tutto motori io sono Andrea Cavatorta vi parlo dalla sede di Reggio Emilia gruppo autozatti come sempre come ogni mese parliamo di vetture di vetture già targate usate dimostrative chilometri zero qualunque cosa abbia già una targa voglio collegarmi alla puntata del mese scorso quindi parlare di vetture automezzi per il tempo libero quelle che solo perché li vedi ti viene voglia di vacanza visto che siamo in procinto di un'estate che sta per arrivare andiamo a vedere le prime vetture per andare in vacanza le prime due sono vere e proprie offerte perché parliamo di due mitsugishi l200 il primo è un 180 cavalli diesel doppia cabina quindi cinque posti più un cassone coperto infinito autocarro del 2016 con 115 mila chilometri il prezzo 22.500 euro iva compresa altro giro altro gioiello come quello che abbiamo visto prima un altro mitsugishi l200 mezzi fantastici con una trazione 4x4 inseribile fantastica ha vinto più parigi de car questo mezzo che la parigi de car stessa detto questo anno 2016 200 mila chilometri 17.900 euro altro autocarro introvabile altro mezzo speciale un renault traffic zen 6 posti passo corto doppia porta da scorrevole un vano di carico dove ci si carica una casa intera un mezzo meraviglioso un anno 12 2015 con 76 mila chilometri il tutto per 14.900 euro iva compresa perché poi in fondo noi vogliamo sì andare in vacanza con i mezzi capienti ma ci vogliamo andare comodi e qui siamo davanti al top a una e berlina 220 diesel cambio automatico allestimento premium una vera e propria signora total black il nero non si sbaglia mai per una vettura anno 2016 con 66 mila chilometri per corsi ad un prezzo eccezionale 30.900 euro interamente finanziabili ed arriviamo in casa lexus con il coupé sportivo lexus rcf sport il top della gamma della sportività in casa lexus non vi sto dire questa vettura che cosa di serie perché farei prima dirvi quello che non ha ha tutto compreso un interno pelle ghiaccio da favola un occhio l'ecologia è ibrida lo sappiamo perfettamente e nello specifico parliamo di un anno 2017 con 25 mila chilometri a 32.900 euro interamente finanziabili ed eccoci arrivati nell'angolo showroom usato di reggio emilia dedicato al marchio ds qui troverete tutta la gamma ds nel mondo del già targato quindi vetture chilometri zero aziendali dimostrative abbiamo le ds3 abbiamo le ds7 benzina ibride diesel 130 cavalli automatiche 180 cavalli automatici negli allestimenti dai più prestigiosi a quelli intermedi interni in pelle pazzeschi sedili ventilati navigazioni retrocamere tutto ds è lusso per questo motivo voglio salutarvi a fianco una vettura color oro proprio perché ds è lusso e tutto quello che ho raccontato è visibile presso le nostre pagine social presso il sito gruppo dati puntocom o attraverso i professionisti che vi risponderanno al numero verde e per adesso da andrea cavatota sede di reggio emilia gruppo zatti un arrivederci alla prossima puntata grazie a tutti grazie a tutti